Vivete le vostre emozioni A portarle lontano Ci pensiamo noi Spedizioni, grafica e stampa Tutto in un unico centro Mailboxes, etc Un mondo di servizi al tuo servizio Mailboxes, etc È il centro servizi che semplifica il lavoro quotidiano Il centro MBE spedisce pacchi e documenti in tutto il mondo Utilizzando i migliori corrieri espresso E aggiunge valore a ogni spedizione Ritira a domicilio gli oggetti da spedire Li imballa professionalmente Utilizzando i materiali più adatti E prepara i documenti necessari Con Mailboxes, etc È possibile controllare la spedizione Fino alla venuta consegna Mailboxes, etc Ad Avola, in corso Garibaldi 2729 All'incrocio di Via Cavour Sito internet www.mbe.it